Stai irritando, devi andare, devi andare, scusami, t'avevo detto guido io, guido io, no guido io che vado veloce, non l'andavi veloce, te di la verità c'hai paura della velocità? No, non ho paura della velocità, che non mi sono trovato bene con il monopattino. Problema al monopattino adesso, vabbè, ascolta fai una cosa, ti fai montare le rotteline e fai un po' di giri come si fa rottoline, grazie, 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 scusate, no le figate, è pieno di centroni che mi lanterano dicono, sono capace, proprio Sanferriere, 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 detto da lei poi, a Panei grazie dell'invito che ho accorto con grande piacere, che nessuno l'ha invitato, allora la domanda è, ma perché sono qui? Eh, ce la chiediamo da edizioni ed edizioni, una grande esibizione, questa sera qui dentro c'è un feticcio, che praticamente è un piccolo me, è un pazzo, perché non ne bastava uno, no, certo, la grande esibizione è che io non muoverò la bocca, le labbra, eppure, questo pupazzo parlerà, no, ma veramente, ma io non ho mai visto una cosa simile al mondo, ragazzi, sono i ventrilo qui, si chiamano ventrilo qui, l'insopportabile di ventrilo qui, scusi, quello sarà il bel modo in cui non si sta parlando con l'intestino, si sta nascondendo dietro, parla la propria bocca, no, è per dire, è per dire, è per dire, forse intendeva che deve stare così, capito, così, forse, oh, incredibile, forse così, va bene, non essere timido, saluta anche la gialappa, ciao la gialappa, ciao, sono Tandorino, allora questa sera Tandorino si esibirà per voi, per tutti noi, sì, esatto, la divina commedia, non faccio non offendiamo Roberto allora scusami tu sei un facchilino? non parla neanche più adesso siamo mutoliti è timido un numero straordinario straordinario un applauso al ventrilo comuto non ci facciamo mancare niente grazie grazie allora che entri adesso l'esibizione che entri la macchina della morte la macchina della morte ma se per lei io sono favorevole perché si chiama così? si chiama così perché è una macchina piena di ingranaggi, meccanismi no ma della morte è quello che mi preoccupa certo perché? non essere pignolo a rompere le scatole svegliamo la macchina della morte tra l'altro fa due voci diversissime no proprio belle non ti preoccupare è per Tandorino la macchina della morte perché Tandorino te avverserà le asce volanti le faccio oscillare ma no mamma mia ragazzi chiamate il mio avvocato aspettilo stai calmo stai calmo dai ma non ti preoccupare Tandorino le lame sicuramente non sono vere infatti oh il che troio pizzica sono vere stai calmo stai calmo sono vere ragazzi è un numero straordinario bello 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 sì ma le giornate di videocomedia imbecille vabbè uguale adesso fai questa cosa qui ma sì più o meno dai da volte se lo guardi si nota appena appena che muove le labbra grazie mille prego prego allora quasi quanto Beruschi ecco più o meno parlato del Beruschi no si è offeso vabbè andiamo avanti allora ovviamente come tutti i grandi atleti non può fare l'esercizio da freddo che quindi dovrà riscaldarsi prima di fare l'esercizio ma cos'è si riscalda con un forno siano sicuri lo metteremo qui dentro non voglio entrare no tu ci entri aia aia lascia lascia fermo lascia lascia aia fermo fermo dove stiamo adesso ragazzi due incredibili è nervoso vai dentro vai tranquillo mi puoi fidare di me si faccia valere ma no ma no il naso no senza eccolo qui dentro ci sta perfetto tra l'altro la cosa importante è la temperatura cioè dobbiamo metterlo a 31,04 gradi perché è fondamentale per il rischio di riscaldarsi certo ma no io direi di fare a 200 ragazzi tanto lui è ignifugo aia aia che botta ma aveva tolto gli anelli i piercing ma che anelli non vanno i microonde lo sanno tutti ma lei con ste mani doveva mettere 31,04 ma no no fortuna che lui è come il suo papà fortissimo ed è un grande campione che c'è come è andata scusi ci fa vedere come è stata Tandorino siamo anche un po' preoccupati come è andata hai voglia di uscire cos'è successo no no vabbè dai almeno il surbanse ha resistito vediamo il bicchiero mezzo pieno ma per il suo Tandorino se ne fa un altro dai io direi quindi se voi siete d'accordo di dedicare questa puntata a Tandorino sono d'accordo ma dove mi chiede non ridi sono qua però non dobbiamo essere tristi noi fino all'ultimo ho fatto quello che voleva e quindi questo è bello sostanzialmente scemo di merda come ha detto sei proprio uno scemo di merda ma chi è che ha parlato ne ha parlato io non ho parlato chi è che ha parlato e chi ha parlato tua sorella scemo di merda a lui è un po' sansicato ma è ancora vivo è vivo è vivo ma no ma cosa ma cosa